Non le capisce Conte le battute, ho fatto una battuta riprendendo Shakira, non ho capito se Conte non sa chi è Shakira e non conosce la canzone o proprio non le capisce le battute, però lancio un appello, Casalino gliele spieghi, quanto a me i soldi che io guadagno legittimamente, lealmente, legalmente sono in dichiarazione dei redditi, quindi sui soldi di Conte stiamo ancora cercando di capire altro, non mi riferisco alle sue vicende personali, mi riferisco ai soldi pubblici gestiti da Conte, in altri termini io voglio vedere se qualcuno ha rubato sulle mascherine, però Conte non vuole fare la commissione d'inchiesta, perché? Per i regionali vi aspettate un risultato netto, qual è la previsione? La previsione è difficile farla, si fanno più facili commentare i risultati lunedì, è chiaro che la scelta del Movimento 5 Stelle di rompere l'alleanza che avevano con Zingaretti è finalizzata a far vincere la destra, perché il disegno dei 5 Stelle è far vincere la destra qui in Lazio rompendo l'alleanza e in Lombardia alleandosi col PD e quindi dando il colpo di grazia al Partito Democratico Lombardo. Detto questo noi faremo un bel risultato con la listazione Italia Viva, il simbolo reca al nome di Carlo Calenda, di Renew Europe, questo è il simbolo che chiediamo di votare, abbiamo dei candidati all'altezza, delle persone serie, tra questi Luciano Nobili che ha svolto benissimo il lavoro di parlamentare e che sarà un consigliere regionale, noi ci auguriamo di maggioranza, ma se dovesse essere all'opposizione farà comunque, saprà far valere il proprio talento e la propria esperienza.